Ciao ragazzi, come state? Spero bene! Allora, iniziamo facendo la correzione degli esercizi di pagina 76 e 77. Allora, esercizio 2 era mettere vero o falso. 1, vero. 2, vero. 3, falso. 4, vero. 5, vero. 6, falso. 7, vero. 8, vero. 9, vero. 10, vero. Poi c'era l'esercizio 3 dove dovevate ricercare poi le frasi nel dialogo. Allora, le figure erano in alto, nonno materno, nonna materna, poi nonno paterno e nonna paterna. Allora, il nonno materno è il papà della mamma e il nonno paterno è il papà del papà. Poi c'era madre e padre al centro e sotto, quindi a baco, Alberto e Federico il fratello, l'ermano. Ok, poi per oggi leggete la pagina 74 e 75 e domani poi facciamo classe in Zoom. Ciao ragazzi!